Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento col meteo di TV6. Nel corso di questo lunedì 13 giugno avremo tempo complessivamente stabile su buona parte della penisola grazie all'anticiclone nordafricano che tornerà a riappropriarsi del Mediterraneo centrale. Sulla nord-ovest abbiamo segnalato la possibilità di addensamenti, prevalenza medio-alti quindi privi di precipitazioni e qualche temporale lungo l'arco alpino durante le ore pomeridiane. I venti di mestrale si atteneranno rapidamente e le temperature torneranno pian piano a salire. In Abruzzo un inizio di settimana estivo con cieli sereni praticamente ovunque, nessun rischio di fenomeni. Le temperature come detto poc'anzi torneranno a crescere e le massime di fatti raggiungeranno i 29-30 gradi alle basse quote, clima mite abbastanza sopportabile comunque nelle aree interne. Le temperature minime anch'esse in leggero aumento, valori tra i 15 e i 20 gradi. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci al prossimo appuntamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.